Siamo in compagnia Siamo in compagnia, dicevo, dell'inviato speciale Salvatore Cimino Buonasera Salvatore, aggiornaci sui gol Il gol, questa è stata la doppietta per Salvatore Pistone Poi ha sentito il cugino, Pistone Luca D'Angelo su paperadi, Pane dei Magici, portiere dei Magici E Miscino, grande volere che abbiamo Mentre per i Magici ricordiamo il gol del primo tempo di 2 di Papov La splendida punizione del capitano Marrone Partita, ricordiamo, valevole per i sedicesimi Chi passa andrà agli ottavi Miscino Per D'Angelo Rientra sul sinistro Anzi sul destro Formatolo firma e riparte Papov Ma la palla troppo lunga Ricordiamo che si sfidano Il Barça del girone B contro i Magici del girone C Sarrebbe quello del sabato per i Magici Sabato e giovedì Aldo Runghi Tiene palla Di Napoli va e giustamente prende palla con le mani In avanti, verticale del Pistone Che di testa ma la palla passa Pane La rimette a formato Continui Centrale per Papov Di Napoli Cerca il tacco ma Jenny Santoro lo ferma Miscino Mezzo, mezzo già Pistone Viene fermato da Marrone Ancora Pistone Salvatore Al centro Miscino stoppa Il tiro Gol Miscino 6 a 3 Gran gol per Miscino Il Barça sta dilagando Papov la gioca per Marrone Marrone Ancora per Papov Ricci La gioca laterale per D'Angelo che rivia la palla Ma in fallo laterale Cotini Papov sbaglia Ricci Riparte Palla toccata da Ricci Una ribattuta su Marrone Cotini Cotini Papov Marrone Al centro per Cotini Maggia ancora una volta Jenny Santoro Esce molto bene Formato allontana Ricci la controlla Miscino Cambio gioco per Salvatore Pistone La schizzama riesce a controllarla In un primo momento Poi esce sul fondo Poi attacco tutta Mancina Tacco Mancino del Barça Papov Dribbling Ma sbaglia Il passaggio D'Angelo Intercetta il pallone Ricci Di Napoli Intercetta Al centro Papov D'Angelo In scivolata Si parte Pane Siamo in compagnia di Sergio Stanziano Un commento veloce Dell'organizzatore Dei tornei SK Partita bellissima Sulla carta Equilibrata Non saprei dire un pronostico Per me il pareggio Sarebbe la cosa più giusta Anche se ora il Barcellona In questi minuti Ha qualcosa in più Con questa perla di Sergio Stanziano Riprendiamo la telecronaca Ricci Ricci Salvatore Pistone Misciro da sponda Ricci Gianni Santora Adesso il Barça Si permette di far girare palla Fa correre gli avversari Misciro Contro la numero Formato lo firma E riparte Paolo Di Napoli Misciro Ottima partita di Silveo Misciro Porta palla Sul destro Ma D'Angelo lo Esagera un po' Diciamo Si mette tra le scatole Possiamo dire Papov Cerca una sponda Ma Di Napoli Ha dato profondità Formato Non faccio La palla La controlla Per Marrone Ultima azione E poi chiuderemo La telecronaca Formato Santoro Lo anticipa Sul pallone Netto E sul pallone Santoro Numero Misciro Un saluto Un saluto agli amici Del Barcellona E dei magici A Gennaro E Salvatore Un saluto agli amici Grazie.